Nonostante la pioggia, domenica scorsa centinaia di appassionati del maxi scooter sportivo più famoso si sono dati appuntamento a Torino per il raduno organizzato dal Team Max Club. I centauri provenienti da tutta Italia si sono ritrovati al mattino e sono partiti per un giro alla scoperta delle strade e dei profumi delle colline torinese del Monferrato. A ritorno l'appuntamento per pranzo è stato presso la concessionaria Yamaha Magic Bike di Corso Casale nel piazzale messo a disposizione dal dealer. Nel pomeriggio gli appassionati del maxi scooter giapponese sono quindi ripartiti alla volta di Torino dove sono stati i protagonisti di un lunghissimo corteo che ha percorso le principali vie del centro città attirando l'attenzione dei non pochi torinesi che hanno sfidato la pioggia per una passeggiata domenicale. Il corteo si è poi soffermato presso il piazzale di Superga. Da qui, dopo la tradizionale foto di gruppo, i partecipanti sono ripartiti per le rispettive città d'origine.